ben tornati ragazzi sul canale di storm player benvenuti a tutti oggi il grande giorno che stavo così grande giorno di squat sfida con pepe shark come stai? ti pensa che mi fai questi convenevole perché adesso ti straccerò anche se non sappiamo ancora che cosa lui dice che mi straccerà penso che si vede a cosa giocheremo a cosa ci straceremo e forse arriveremo anche alle mani ma si sa sicuramente ci faremo male quindi iniziamo a fare un po' di stretching ci faremo male sicuramente giocando a non so cosa preso da temu ragazzi velocemente andiamo a spacchettare non so se sto nel riquadro dove stavo lì? io qui sicuramente mi sarò tagliato tutta la faccia frigo vi do l'onore di aprire questo gioco ci sfidiamo ci sfidiamo vediamo vincerò io mi raccomando la plastica nella raccolta differenziata facciamo pubblicità progresso attenzione oh ci sono delle palline dentro palline? ecco eccolo oh rincastrato qua ci abbiamo questo che è un orecchino allora questo è un orecchino invece abbiamo delle palline con il velcro mantieni le palline come è che si chiama velcro? il velcro ci sono palline al velcro al velcro mi stavo bene stavo per ammazzare oh bellissimo bello che gioco sarà uno lo mantiene vedo se ci vede bene è fighissimo oh mamma mia che sfida ragazzi sarà oggi che sfida allora cosa succede? vediamo prima se funziona mantieni guarda che ti prendo in faccia bellissimo allora aspetta provo con un'altra provo con un'altra no 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 ma questo è 100 no doveva stare di più allora in pratica se becchiamo qui il blu no non è niente però se becchiamo così ad esempio vale? il 100? vale il 100? e questo sarà il motivo per cui ci alzeremo le mani dobbiamo decidere qui il regolamento altrimenti non l'abbiamo fatto anche se lo becchiamo così vale sempre il 100 vale sempre il 100 dai ok dai ti metti poi da un millimetro dentro per tutte le angolazioni abbiamo 6 palline la sfida qual è? cercare come avete visto come vedete di fare più punti possibili quindi avremo 6 possibilità testa per ogni round faremo 3 round in caso di pareggio faremo il terzo eh sì c'è il meglio dei 3 e più che altro visto che queste palline sono colorate ma non abbiamo un regolamento se non in cinese quindi ce le inventiamo noi e facciamo 3 palline gialle valore punteggio normale questa è ecco l'abbiamo persa per quanto riguarda le palline color semaforo quindi verde e rosso il valore sarà per 2 rossa e verde per 2 il punteggio e per ultima che ce n'è solo una diciamo diversa blu adesso la vedremo grazie assistenza e la blu? e la blu vale per 3 quindi in questo caso 300 andiamo a sfidarci via ora montiamolo eh sì scusate in pratica bisogna leccarlo e incollarlo sulle porte proviamo ah qua c'è un coso che si appende ho capito ma la cedra devi tenere no lo possiamo appendere ah c'è il regolamento ok allora ragazzi l'abbiamo appoggiato lì purtroppo non abbiamo degli studi che possiamo magari montare quello che vogliamo il regolamento è attaccare il gancio appendere il bersaglio iniziare il gioco vinci il giocatore che avrà tenuto il punteggio più alto quindi e dobbiamo anche segnare il quartiere al limite là dobbiamo stare dietro no questa è un'inquadratura giusta questo è il bello della live ma non siamo in live siamo in registrazione allora fai una prova fai una prova come si vede ciao ragazzi il video è finito no il ban no questa è la copertina no la cultura era una prova guarda di no scusa la copertina blurrata così dove è è stato un caso hai fatto a 100 punti quindi parte la sfida inizia Peppa perché è il chi sei tu l'ospito lo sfidante lo sfidante sei tivi a disposizione si attacca la tuta vuoi farvi vedere bellissimo abbiamo lanciato una nuova non è perdo abbiamo lanciato una nuova nuova l'uovo una nuova nuova allora possiamo decidere quale pallina tirare si non c'è una scelta dopo ok ricapitoliamo le palline gialle valgono z cioè nel senso non valgono vale per uno la pallina rossa è quella verde la devi guardare dove che stai guardando no c'è la telecamera io so quello che devo puntare là diciamo la pallina verde è quella rossa valgono per due il punteggio è la pallina blu perché quella blu vale per tre il colore rosso no non mi piace rosso allora il blu vale per tre decidi per tre si parte verso il primo tiro per Peppe io ho visto lì si concentra 60 punti questa vale per due due pallina verde mostriamo è blu è blu adesso il blu vale 40 30 20 è blu non c'è scritto un numero ma questo non vale niente è zero qual è il bello attenzione questo vale zero ragazzi perché non c'è scritto niente ecco perché chi vuole beccare il centro deve rischiare deve rischiare il tutto per tutto quindi secondo tiro di Peppe zero zero andiamo sul per uno terzo tiro per uno pallina gialla attenzione ragazzi questo vale 100 questo vale 100 ragazzi questo vale 100 ragazzi si vede anche da qui si vede anche da qui si vede anche da qui il bar si vede il bar deciso che vale 100 punti inchiopo sarà duro riguardo per uno però hai un zero punti quindi cosa perché non hai rischiato l'altra pallina e ho paura di sbagliare malamente 100 punti nel quarto tiro giusto si ora proprio il per tre il per tre mi sa che è zero si mi sa che è zero zero punti per tre l'ultimo è il per due per due pallina rossa che cazzo di numero 90 sì 90 punti ma nessuno si 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 attaccano bene è bellissimo è nel per due quindi 180 quindi 90 lo scrivo per due adesso con la nostra calcolatrice mentale facciamo sono 180 280 380 440 440 punti round 1 per Peppe nel round 1 adesso cazzo sottoscritto cambio let's go ragazzi let's go eccole qua si parte ragazzi adesso Peppe sta per essere strecciato 440 punti sono pronto io provo la caolina gialla quindi per 1 normale proviamo subito sul 100 non si sa mai sto per vedere numero 0 vado vadi 50 ho capito che ho la mira storta quindi dovrei puntare un po' più a destra quindi 50 punti il tuo primo è stato 60 proviamo una per due per due per zero ma non punterò sul 100 ragazzi perché io sono intelligente vado guardi 180 180 porco canale io sul 90 ho beccato ragazzi questa volta c'è stato un po' di vento sulla destra che mi ha portato 160 160 proviamo un'altra gialla per uno numero 0 ci sta 70 70 aspetta o vale di più verso lo 0 ma precisissimo no guarda tu secondo te secondo te è al centro quindi mettiamo 70 è al centro quando è al centro facciamo che è giusto si let's go ora proverò la per due di nuovo no per tre pallina rossa per due vado guarda di 0 puntando in alto adesso 60 per due 120 non voglio lasciarmi la per tre alla fine la faccio adesso la per tre la faccio adesso quindi pallina blu puntiamo almeno non so verso il 70 no 120 potevo fare meglio qua dai ultima normale gialla ragazzi la faccio l'ho chiusi 100 no no per quanto per uno per l'orco ok 340 440 500 550 620 620 primo round yeah vinto non fare 0 eh fare 0 non è facile quindi secondo round io non so se vuoi rischiare quello ma che 100 ho fatto parto il secondo round ragazzi primo l'ho vinto mi ci riprova Peppe adesso nel cercare di vincere non rischiamo più il 100 andiamo attenzione tutte e tre non ci vedo perché dobbiamo rendere le cose difficili perché ma perché attenzione c'è il bar c'è il bar tanto ci vedo per caso no dai ti diamo 60 visto per non farti rimanere a zero 60 punte anche io ho fatto no io ho fatto 50 prima al primo era gialla giusto la pallina sì secondo tico vai andiamo sulla gialla tutto in mezzo le vecchie 50 50 gialla sì sì 50 ufficiale per 2 per 2 attenzione questo è un 40 sì 40 punti per 2 sono 80 io stico 40 per 2 così mi ricordo per 3 dove sono io per 3 0 no ho il seguito ma papà no se lo hai fatto no la pallina senza mani no dove hai lasciato le mani dove hai lasciato le mani dove hai lasciato le mani per 1 rischiamo per 1 100 ragazzi stavolta 100 per 1 0 a 100 allora io ti faccio adesso una stima tu hai 180 110 290 punti che non sono tantissimi da quello che abbiamo visto nel primo round però c'è un per 2 adesso ah è un per 2 ma so dove cercherai di lanciarlo frego 70 per 2 mi sono fregati per 3 140 ho fatto peggio di prima ah tu stai legato per 3 eh sì per la terra il totale lo facciamo subito 110 190 290 390 430 sì peggio di prima ragazzi mi sa che c'è un 10 punti a meno che non sbagli a due palline importanti ragazzi sapete a me piacciono le sfide quindi in questo round in questo round per rendere cose più difficili tirerò tutte le palline ben dato così Peppe lo facciamo mettere a piangere subito non so non so un pezzo di tenda non so prego aspetta mi bandi lì alziamo il livello vabbè si vede un po' però non vedo i numeri vedo proprio il diciamo l'ombra ma i numeri non vedo adesso mi agli non te lontanare adesso è ancora mi tu adesso si è bene da sotto riesco a prendere ragazzi primo tiro che coloro è da 1 da 1 non sai niente colori buono no non lo vedo appunto no ma me lo devi dare tu beh no se li prendi tutti i pezzi tutto a cacio non basta che mi sono bendato vado vai 90 come primo tiro 90 sicuro? mi devo togliere la fine dell'ora ci possiamo fidare non li stacco mi dia una pallina per favore vuole scegliere dai questa ti faccio scegliere il valore no fa la faccialità c'è tanto è bendato non vedo quasi niente non è che cambia molto secondo tiro io per meno doido ma la propria colonna cioè il numero non li vedo troppo 50 50 questo è per 2 dove stanno? stanno qua questo cos'è? eh lo so prendo a poco no vale come tiro non mi posso muo non vedo quasi niente vale come tiro dov'è secondo me guarda è giusto 70 beh mi sa che questa la portiamo a caccia questa la devo guardare? no ah no 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 la do così tiro che cosa ha fatto? che cosa ha fatto? non credo che la si avrebbe vista questa è un 20 per 3 20 peccato 20 per 3 sono 60 eh 90 90 per 2 90 per 2 attenzione l'ultimo eh gialla 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 da sotto riesco a vedere ultimo tiro ultimo tiro ragazzi ultimo tiro alziamo di nuovo il livello sta sotto le gambe si è incollato al calzino oh posso fare questa cosa e paura no 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 ragazzi però sono preciso eh mamma mia c'è una precisione oh 500 quindi 2 a 0 scoprendo una nuova abilità sto scoprendo una nuova abilità sto diventando fortissimo a lanciare le palline vabbè l'ultimo era 0 punti giusto te dimmi che ho vinto hai vinto 500 sì quel per 3 per 3 0 allora io ho fatto il per 3 a 20 ho fatto io l'ho fatto 0 perché è andata a terra quindi ah tu nel secondo round sei andata proprio a terra quindi sono bastati 2 round per sconfiggere il nostro caro amico Peppe che sicuramente se la ricorderà questa sconfitta è sicuramente mi sfiderà di nuovo in futuro se questo video però arriva ai like giusti non vi dico quanto perché non lo so e alle visual giuste e se vi iscrivete anche facciamo la seconda puntata o magari consigliateci qualche gioco che magari possiamo fare sì 1v1 IRL sì possiamo vabbè per quello ci sto io guardi i giochi tutti aspettatevi comunque consigliateci se c'è qualche gioco del genere non sempre giochi video giochi perché stiamo sempre a giocare dalla mattina alla sera giochi del genere tipo quelli che facciamo da piccoli erano belli ragazzi quindi a 10.000 like prendiamo le action cam e giochiamo anche a parello con le action cam impossibile cos'è che succede comunque like e commento per dirci la vostra e fateci sapere se volete la partita di ritorno diciamo con Peppe dovrebbe essere il minimo e quindi Peppe è rimasto malissimo quindi ci vediamo a un prossimo video let's go a un prossimo video